I primi tre mesi a 19,90 euro al mese. Tutti i dettagli su Dazon.com. Ma no, è gigante! Non mi convince il colore. Black Friday di Euronics. Che svolta! Asciugatrice Electrolux classe A++ a 569 euro. LG OLED TV 48 pollici a 649 euro. Samsung Galaxy A33 5G a 229 euro. Notebook Acer con AMD Ryzen 7 a 599 euro. Scegli la tua rata e paghi dopo Pasqua 2024. Che svolta il Black Friday di Euronics! Siete stanchi del vostro vecchio bagno? La soluzione a tutto questo è semplice e veloce. È l'offerta restyling Doccia Time. In soli due giorni i tecnici specializzati di Doccia Time provvederanno a installare un nuovo box doccia in cristallo, un piatto doccia antiscivolo ad effetto pietra, set miscelatori di alta gamma, colonna doccia in acciaio inox, completa di doccino estraibile, accessori di completamento, nuovo rivestimento, aria doccia, set sanitari, WC, copri WC e bidet, composizione lavabo, completa di specchio e lampada. E ancora, revisione e manutenzione dell'impianto idrico, rigenerazione del pavimento e dei rivestimenti esistenti, pulizia, sanificazione e igienizzazione dell'intera stanza da bagno. Offerta restyling Doccia Time. Doccia Time. Presto detto, presto fatto. Nella sede storica di Via Renaccia, nel centro di Napoli, Enrico Esente si rinnova di continuo. Potrai raggiungere lo showroom comodamente in auto, grazie al parcheggio gratuito, e toccare con mano l'ampia offerta di cucine, camere da letto, living, camerette e divani. Dunque, potrai acquistare con un comodo finanziamento, anche senza busta paga, e consegna in un solo giorno. Approfitta dei nostri servizi, progettazione in sede, sopralluogo e rilievo delle misure per ogni ambiente, assistenza post vendita, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. Segui i nostri canali social per essere sempre aggiornato sulle nostre offerte della settimana. Ma tu, ce l'hai presente, Enrico Esente? Ma tu ce l'hai presente, Enrico Esente? Ma no, è gigante! Non mi convince il colore. Black Friday di Euronics, che svolta! Asciugatrice Electrolux, classe A++ a 569 euro, LG OLED TV 48 pollici a 649 euro, Samsung Galaxy A33 5G a 229 euro, notebook acer con AMD Ryzen 7 a 599 euro. Scegli la tua rata e paghi dopo Pasqua 2024. Che svolta il Black Friday di Euronics! Buon pomeriggio, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Napoli in piazza contro il femminicidio, un minuto di rumore per Giulia. Era giusto partecipare, giusto dare un'altra domanda.